carissimi pace buona giornata di vi benedica questa mattina vogliamo leggere nell'antico testamento leggeremo nel libro del profeta daniele al capitolo 12 ci soffermeremo sul verso 3 dove è scritto che i saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno questo passo ci apre la visione del trionfo celeste dei credenti quando verranno rapiti dal signore gesù per essere sempre con lui vengono definiti come saggi sapienti e naturalmente qui la parola di dio non parla della sapienza di questo mondo ma parla di quella sapienza che è frutto del timore di dio il libro dei proverbi infatti dichiara che il timore del signore il principio della sapienza e che conoscere il santo e l'intelligenza una sapienza quindi quello di cui parla daniele che non è una sapienza di questo mondo e qui permettetemi di ricordare a me a voi quanto l'apostolo giacomo scrive nella sua epistola al capitolo 3 egli infatti afferma chi tra voi è saggio intelligente mostri con la buona condotta le sue opere compiute con malsuetudine e saggezza ma se avete nel vostro cuore a mera gelosia spirito ricontesa non vi vantate non mentite contro la verità questa non è la saggezza che scende dall'alto ma è terrena animale diabolica infatti dove c'è invidia e contesa c'è disordine e ogni cattiva la saggezza che viene dall'alto anzitutto è pura poi pacifica mite conciliante piena di misericordia di buoni frutti imparziale e senza ipocrisia il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace e quindi è evidente appunto che questi saggi sono saggi non secondo questo mondo ma secondo l'insegnamento della scrittura e l'immagine che ci viene presentata da parte di daniele cioè della distesa sellata a cui vengono anzi a cui viene paragonato lo splendore che circonderà i credenti ci dà un senso di grandiosità che è difficile da comprendere con la mente umano perlomeno è difficile da cogliere nella sua pienezza ma mi sembra di intravedere in tutto questo la gloria di dio che risplende sul popolo del signore sui suoi figli e mentre noi consideriamo questa grandiosa eredità che ci viene promessa dobbiamo anche farci una domanda e cioè se è saggio mettere in pericolo tutto questo trascurando di fare la volontà di dio la risposta è inevitabilmente no non è saggio dare valore alle cose di questo mondo e di conseguenza arrivare a perdere la vita eterna non è saggio anzi a dire il vero mi verrebbe da dire che da stolti e dio ci aiuti a non essere stolti ma veduti dio ci aiuti a non perdere tutto quello che dio ha preparato per quanti avranno amato la sua apparizione ed ecco perché dobbiamo dare ascolto al consiglio della parola di dio che ci viene dato per mezzo della penna dell'apostolo paolo il quale scriveva ai colossesi al capitolo 3 al verso 2 abbiate l'animo alle cose di sopra non a quelle che sono sulla terra in tutto questo non dobbiamo poi dimenticare il compito fondamentale importante che viene assegnato ad ogni cristiano vale a dire portare gli altri alla giustizia portare gli altri a cristo esercitare quindi il ministero della riconciliazione e questo deve essere fatto anche alla luce dell'altra promessa che troviamo sempre in questo verso del di daniele e cioè che coloro che avranno insegnato la giustizia risplenderanno come stelle in eterno c'è un premio quindi che viene promesso da parte di dio un premio per coloro che sono salvati è un premio ancora più glorioso permettetemi di dire questo e per quanti avranno portato altri alla salvezza e signore ci aiuti ci aiuti ad impegnarci per poter testimoniare certamente con la nostra vita ma anche per insegnare le vie della santità questo dobbiamo fare sicuramente nelle nostre famiglie se abbiamo figli piccoli dobbiamo educarli nelle vie del signore se abbiamo nipoti dobbiamo insegnargli le cose relative a dio al suo regno se abbiamo un marito una mogli inconvertito le figli che sono diventati grandi non trascuriamo di condividere con loro le verità dell'evangelo e poi lo dobbiamo fare anche con le persone che conoscenza non hanno della parola di dio e che non fanno parte della nostra famiglia i nostri concittadini le persone che magari abbiamo accanto sul posto di lavoro il signore ci aiuti ci aiuti a testimoniare ad essere fedeli servitori di dio anche in questo meraviglioso ministerio perché il premio sarà grande ora notate che il signore non parla di un premio riservato a coloro che convertiranno ma coloro che avranno insegnato perché poi sapete bene che la conversione l'accettazione di cristo è frutto di una decisione personale che viene presa da parte della persona che ascolta il messaggio del vangelo a noi il predicare alle persone l'accettazione della grazia a cristo una volta che la grazia viene accettato l'opera di retenzione e allora in questo giorno vogliamo innanzitutto ricercare sapienza e ricordiamoci che giacomo dice che chi manca di sapienza è sufficiente che la chieda a dio il quale dona liberamente senza rinfacciare a nessuno e vogliamo anche impegnarci a testimoniare della grazia ad insegnare le vie della giustizia affinché quando la fine dei tempi arriverà come abbiamo letto possiamo risplendere come lo splendore del firmamento e come le stelle in eterno che la pace la grazia la presenza di dio ci accompagni ancora oggi dio benedica tutti quanti noi grazie a tutti